Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un argomento diverso, non parleremo di numeri, non parleremo di argomenti molto tecnici, ma faremo un po' un quadro sul settore giovanile dell'Inter che è una risorsa importantissima per la nostra società ed è una cosa dove la società sta puntando anche per il futuro e quindi ne parliamo, cercheremo di capire che cosa è stata e cos'è e cosa sarà, speriamo, il settore giovanile per la nostra società. Noi abbiamo campus in tutto il mondo, l'Inter da sempre è una società che ha fatto del settore giovanile una grandissima fuscina di talenti, si parte dai campus in giro per il mondo, con i bambini, fino a fare delle vere e proprie scuole calcio e poi per passare a tutte le categorie giovanili. Vedete qui una carrellata di fotografie di che cosa si è uscita negli ultimi 10-15 anni, prendiamo in esame questo ultimo periodo, ma da sempre il settore giovanile dell'Inter ha sfornato dei talenti o dei validi giocatori. E qui vedete quanti, questi sono solo degli esempi, quelli che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono tantissimi e facciamo anche un gioco, proviamo a riconoscerli tutti, ma io sono convinto che le facce, insomma, vi dicano tanto. Parliamo anche di Obafemi Martins o piuttosto di Goran Pandev, cioè Goran Pandev ha vinto tutto con l'Inter ed è un prodotto del nostro vivaio, fino ad arrivare a giorni nostri Esposito e Radu. E quindi vedete che c'è veramente tanta qualità in questi giocatori, quindi significa che i nostri tecnici giovanili lavorano veramente bene. Ma chi è colui che ha dato la svolta a questo settore e che ha fatto diventare questa parte del nostro club veramente una cosa eccezionale a livello mondiale? Eccolo qua. È Pierluigi Casiraghi, che è stato lo storico osservatore nell'azzurro e punto di riferimento per lo scouting del club. Purtroppo è venuto a mancare due anni fa, il 28 marzo 2018, ma è stato veramente una figura di grande riferimento. È colui che ha fatto fare il salto di qualità, aveva un occhio fantastico per i giovani, ha fatto fare il salto di qualità al nostro settore giovanile. Ed oggi siamo in mano a Roberto Samaden ed ha con lui dei validissimi collaboratori che sono Beppe Baresi, Salvatore Cerrone, Mario Corso, Fabio Galante e Matteo Villa. Fabio Galante, Corso e Baresi sono tre ex giocatori che sono delle bandiere dell'Inter. Matteo Villa e Salvatore Cerrone sono dei validissimi tecnici che invece hanno, diciamo, sono coloro che fanno riferimento ai migliaia, centinaia di migliaia di osservatori che sono in giro per il mondo. E sono tantissimi. La nostra rete di osservatori è, proprio a detta di tutti, ritenuta la più capillare e valida del calcio europeo. Se c'è un talento, un osservatore dell'Inter sta lì, che lo sta guardando e lo scopre. E prova a portarlo da noi. Fino ad oggi, molto spesso, questi giovani sono stati ceduti e messi e sacrificati per il mercato, come merce di scambio per poter prendere dei pezzi, in teoria, più pregiati. Qualche volta è andato bene con questi giocatori che vedete qui, perché abbiamo dato dei giocatori che avevano del talento, erano bravi, ma che però hanno fatto arrivare in società dei giocatori ancora più bravi. Altre volte però non è andata molto bene ed abbiamo regalato dei talenti a squadre ai nostri avversari. L'ultimo esempio sappiamo benissimo che è Niccolò Zaniolo con la Roma. Ma possiamo fare l'esempio anche di Bonucci. Bonucci è stato svenduto, tra virgolette, dall'Inter e poi sappiamo che adesso è il difensore centrale della Nazionale, Duncan, Benassi, insomma. Ne abbiamo mille esempi anche qui purtroppo. E allora la lezione forse è servita ed ora bisogna cominciare a far rientrare i nostri diamanti alla base, tipo Zigno, Van Oysden, Brazao e magari trattenendo quelli che possono diventare dei campioni. Perché ho parlato di Brazao e di Zigno, Van Oysden? Perché? Perché Brazao è ritenuto da tutti un talento di portiere che sarà il portiere più forte al mondo nel futuro. Poi ce ne abbiamo in casa, ma parliamo anzi prima di Zigno, Van Oysden. Zigno, Van Oysden è ritenuto dai tecnici il nuovo Beckham Bauer e lui ha l'estimate del campione, veramente. L'abbiamo dato, infatti non l'abbiamo fatto scappare via, l'abbiamo dato allo standard, gliel'abbiamo venduto per poter fare una plusvalenza e abbiamo fatto, abbiamo messo all'interno un diritto di recompra. E si vocifera che sia in odore di rientro, perché ha avuto degli infortuni gravi per la sua età, ma sembra che li abbia superati, sembra che il suo fisico ora sia a posto e quindi far rientrare un giocatore così forte, che è titolare fisso allo standard Liegi, sarebbe veramente un bel colpo, perché se è vero che stiamo prendendo anche altri giocatori in quella parte del campo molto giovani, potremmo garantirci insieme a Bastoni una difesa fortissima per il futuro. Poi abbiamo Agumet, abbiamo Chirola che è fortissimo, abbiamo Esposito e sappiamo tutti quanto è forte Esposito e poi chissà, magari far rientrare anche Pinamonti. Quindi, oltre a questi che dovrebbero rientrare e dovrebbero, diciamo, dovremmo mantenere quelli forti in casa, dobbiamo magari acquisirne anche altri, altri forti che possono far elevare il nostro livello di giovani e farli diventare i titolari e magari costruire per tanti anni una squadra giovane e vincente, quindi dare continuità al progetto Inter. Qui ho messo alcuni nomi, alcuni molto vicini all'Inter, vedete che Maras con Bulla a dispetto di quello che si dice in questi giorni che la Juve si sia inserita, io l'ho messo con la maglietta dell'Inter, perché per me con Bulla l'abbiamo già preso. Tonali è un altro prospetto che praticamente si ama le firme. e poi ci sono questi giochi, Vagianidis l'abbiamo già preso e già firmato, io non lo conosco molto bene, ma si dice che sia veramente molto forte a 18 anni, quindi dovrà probabilmente farsi un po' le ossa. Poi si parla molto di Adolfo Gaic, che è il primo a sinistra ed è un attaccante un po' alla Bobo Vieri, diciamo, molto forte fisicamente e che sta facendo faville in Argentina ed è stato molto accostato all'Inter. Oppure Matteo Scugna, di cui abbiamo parlato nell'altro video insieme a Steven, e poi giù in fondo adesso ho messo anche Firpo, Junior Firpo, che potrebbe essere la contropartita che l'Inter ha accettato per lo scambio con Lautaro. Scambio, diciamo, per modo di dire. Quindi la parte di denaro che non verserà al Bercellona lo darà con Junior Firpo, si dice. E, ripeto, ha 22 anni, 23 anni, quindi è molto giovane anche lui. Tutto ciò ci porta a pensare come sarà l'Inter del prossimo futuro. Io ho fatto due moduli, con la difesa 4 e con la difesa 3. Il 4-3-1-2. E vedete che sono tutti nomi che ruotano intorno all'Inter, ma che potremmo già schierare dal prossimo anno. Diciamo, Esposito probabilmente andrà in prestito a farsi le osse, a giocare, però in teoria questo potrebbe essere una disposizione dell'Inter. E, se permettete, non sarà ancora piena di grandi campioni, a parte Eriksen, Barella e Tonali, il centrocampo è molto forte così. Ma, in ogni caso, già è una squadra che, secondo me, non avrebbe difficoltà ad arrivare in zona UEFA e forse se la giocherebbe anche per la Champions. Vediamo, vedete che anche le riserve ho messo praticamente tutti giovani, tutta gente intorno ai 20 anni. C'è anche Cancelo, ma l'ho messo volutamente in panchina per far capire che potremmo essere forti anche senza il ritorno di Cancelo. Oppure un modulo a tre, quello che piace a Conte, diciamo, quello che speriamo e pensiamo che possa uscire fuori nella prossima partita contro Napoli, vedete che questa è una gran bella formazione, perché abbiamo una difesa con Kumbulla, Zigno e Bastoni, a destra Vagianidis, a sinistra Firpo, in mezzo Barella-Tonali-Eriksen e l'attacco Cugno-Esposito, che potrebbero essere alternati con Gaic, Vinamonti o quant'altro. E comunque, vedete, abbiamo anche Marco Pompetti che è veramente forte, è in prestito ed è un altro centrocrapista che potrebbe rientrare. Quindi capite che il futuro è rosio e quindi noi non possiamo far altro che sperare che le politiche per i giovani del settore giovanile cambino un po', non siano solo dei gran bei giovani che vengono cresciuti per farli giocare poi in altre squadre e farli esplodere nelle altre squadre, ma speriamo che qualcuno di questi possa farci grande e anche noi e possa restare nell'Inter a fare la sua carriera. Quindi io ci spero molto perché il settore giovanile dell'Inter è un valore importantissimo della squadra e tra l'altro ha anche dei riscontri fortissimi dal punto di vista economico. Non ne abbiamo parlato, non era un video per parlare di numeri, ma creano valore più di qualsiasi sponsorizzazione, più di qualsiasi entrata. Questo è un valore che può crescere esponenzialmente e può essere la nostra miniera d'oro. Ma non è solo una miniera d'oro per incassare, deve essere anche qualcosa che va a mettere valore nel patrimonio come cartellino del giocatore. Speriamo che la società ci creda e che questi giovani possano veramente fare grande l'Inter. Alla prossima, ciao ciao!